Carlotta asmr ecco ti ecco ti mamma mia sto morendo dal caldo guarda mamma mia mamma mia ma come si fa? detesto questa stagione non trovo perchè è nata mia figlia fa troppo caldo si vabbè ci sono le ferie e tutto ma fa caldissimo senti ci rinfreschiamo un po' insieme vabbè devo fare una cosa un po' rapida perchè appunto sono ho finito adesso di addormentarla era molto stanca quindi non so quanto reggerà come va tu? è molto caldo ok allora intanto ti posso offrire un po' d'acqua fresca ci vuole è frizzante fatta poco fa si si io il soda stream ci troviamo troppo bene io e mio marito si adesso si merda si svegli sia che 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 cosa che Allora C'è lì Cosa è il mio come disse dall'acqua niente si puoi lasciarlo lì fresca e frizzante perfetta ok mamma non può capire mi si è rotto il ventaglio ho un ventaglio troppo bello in pizzo l'ho usato tantissimo questi giorni al lavoro e in pratica sotto c'è una specie di vite che tiene bloccate le asticelle e il legno si è rotto vabbè sorvoliamo e senti io mi spruzzo un po' di acqua termale che ora uso per tutto praticamente per qualunque cosa usa acqua termale guarda rinfresca tantissimo se la uso anche su di te la posso usare anche su mia figlia si si è proprio c'è scritto dietro è sicurissima è acqua termale appunto e c'è scritto proprio di vaporizzare spruzzare sulla pelle una leggera brezza non saprei come tradurlo in italiano lasciare agire qualche istante prima di tamponare e asciugare io non asciugo la notte per esempio se mi sveglio con il caldo da una spruzzata me li attormento è solo acqua termale pura vedi lascia questa in francese si dice la bruma eh no la bruma non so in italiano infatti brezza non è il termine adatto vieni ok meglio ci credo sì farmacia l'ho presa ma questa qui pensa che dell'anno scorso perché non l'avevo terminata ne avevo presi due mi pare mi sembra se non sbaglio di averla scoperta quando ero incinta due anni fa sai che non me lo ricordo comunque due anni fa il 2022 quando ero incinta a luglio era l'ottavo mese una roba spaventosa cioè a luglio sono entrata all'ottavo mese quindi mi sono fatta a luglio agosto in realtà è stato è stato positivo il fatto che sia nata mia figlia il 21 agosto e non 4-5 settembre come si era detto perché mi sono risparmiata molti giorni di caldo col pancione ne avevo vissuto passati già abbastanza di caldi giorni caldi sì in questo intanto ci ri ci siamo ci siamo un po' di refrigerio io sto leggendo questo ah si è bagnato tutto con l'acqua termale questo qui il club dei delitti dei gioventi sì mi sta piacendo sono a pagina 90 non mi sta prendendo come avrei creduto mi piace la cosa che mi sta fermando un po' sinceramente è che ci sono tantissimi personaggi ogni tanto mi perdo il ruolo del personaggio perché scritto anche in modo insomma non è una scrittura non è pesante però insomma devi si deve proprio seguire oh si è rovinato un po' si deve seguire si deve essere belli insomma non è una scrittura particolare molto bella però si deve seguire senti poi che vogliamo fare un po' di ghiaccio come un po' di ghiaccio copetti questi sì si mettono in freezer adesso si è un po' sciolto il ghiaccio però sono ancora freschi si mettono in freezer e appunto l'acqua all'interno diventa ghiaccio, quindi diventano cupidi di ghiaccio senza però anacquare la bevanda, in questo caso noi interessa poco perché noi lo usiamo per una bevanda allora quale vuoi? ne prendo viola e rosa, uccello e azzurro, ok? prima faccio con me e poi faccio con te, ok? mamma mia, molto meglio del cubetto di ghiaccio, poveri occhi miei, molto meglio del cubetto di ghiaccio e poi qui, ovviamente, un refrigerio incredibile, vieni è piacevole, è strano, si, che siano cubetti, le tempie, fronte, si, dentro le orecchie, collo, ansia, tetto, te l'ho detto mamma, meglio? ok? una cosa rapida così per fare la tua chiacchiere poi in realtà, se vuoi, ho anche delle caramelle di cui mi devo sbarazzare perché le ho comprate a Natale e a Natale, si non penso, cioè non credo ci siano delle controindicazioni, cioè nel senso, non penso scadano fammi vedere e invece si, durano un anno, scadano a dicembre caramelle all'eucalipto che ho preso in un mercatino natalizio sono extra forti, vuoi assaggiare? la danno una sensazione di freschezza? dai, assaggiamolo un pochino, non ho fatte fuori, ma un pochino non ho fatte fuori, non ho fatte fuori, ma un pochino sono molto zuccherine, vedi, sì sono dei pezzi un po' molto irregolari, tagliati così vuoi? tieni chiaramente sono molto zuccherate non so in che tipologia, in che categoria di persone rientri tu io rientro in quella tipologia di persone che morde le caramelle da sempre mi sto dando un contegno rinfresca, vero? menta eucalipto extraforte, direi no ho decisamente esagerato perché la signora mi ha detto che sono ottime per respirare meglio in inverno, magari quando si ha raffreddure si prende pure il diapete però effettivamente ora che si è rotta solo nella parte interna sento proprio respirare meglio di prima nonostante non sia raffreddata insomma con questo caldo l'hai vista la mia maglietta? bella è di pampling si ne ho tantissime infatti alcune le ho regalate alcune non mi entrano più infatti non so che fare perché non sono più in produzione magari le rivendo su finted non lo so le ho pagate in fondo praticamente cioè le ho acquistate con gli introiti quindi e e poi ma perché cosa stavo dicendo? ah sì perché ad esempio questo la uso per stare in casa anche tipo quella con Alberto e il gelato insomma non la uso per uscire mi sento un po' l'imbarazzo sono sempre più rinfrescata a me si sta rinfrescando il cervello senti ci sta un po' di ventilatore rilassati posso arrivare un po' di aria tu chiudi gli occhi una piccola mosca ok metto al minimo ritiro a vese fatigui ris 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 Allora Allora